Un vero e proprio agguato quello che si è consumato ieri sera a Pescara. È l'orario dell'aperitivo, siamo in via Eugenia Ravasco a due passi dal centro. Accade tutto in pochi secondi. Un uomo a bordo di uno scuterone, come confermano anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza, parcheggia per poi dirigersi a piedi verso la veranda del bar del parco, dove si consuma il dramma. Colpi di pistola, chi ha sentito dice più di uno, che non lasciano scampo a Walter Albi, 66 anni, architetto di Francavilla al mare, mentre resta ferito in maniera grave Luca Cavallito, 48 anni, di Pescara. Attimi di secondo e il killer, col volto coperto, si dilegua nel nulla a bordo del suo mezzo, lasciato pochi istanti prima. Sul luogo della sparatoria, oltre al 118 agenti della polizia, carabinieri, il capo della procura di Pescara Giuseppe Bellelli, assieme al sostituto titolare dell'inchiesta Andrea Di Giovanni. Scene di terrore anche nel vicino Kidland, locale che ospita una festa con famiglie e tanti bambini. Otto, i bossoli rinvenuti sul posto dalla polizia. Per Albi, fatali, i colpi ricevuti al torace, all'addome ed un terzo tra spalle e collo. Tre colpi che hanno centrato Cavallito, obiettivo del killer, uno al volto, uno al torace e uno tra stomaco e fegato. Trasportato in condizioni critiche all'ospedale, è stato sottoposto a due interventi chirurgici andati avanti fino alle 5. Ora è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Ha riportato lesioni a diversi organi, nonché agli arti e al volto. Non sembra avere precedenti Walter Albi, architetto stimato che in passato aveva lavorato anche per il comune di Pescara come direttore dei lavori nella manutenzione straordinaria delle coperture delle case popolari a Fontanelle. Ex calciatore di categorie minori, Cavallito a quanto pare aveva invece piccoli precedenti. Forrestato dieci anni fa per detenzione ai fini di spaccio insieme a tre cerignolani, nell'auto fermata dai carabinieri 200 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 19 chili per un valore sul mercato di circa 150.000 euro. Sulle tracce dell'assassino si sono messi subito al lavoro le forze dell'ordine che sperano, confidando nell'aiuto delle telecamere posizionate in altre zone della città, di recuperare notizie fondamentali per cominciare a capire il perché di questo gesto.